E' un romanzo scritto in prima persona, i nomi dei protagonisti sono i nomi reali della scrittrice, della famiglia della scrittrice. Quindi Enrico Alessi racconta di sé, della propria vita, come ha iniziato a fare tanti anni fa sul proprio blog. Nasce da questa esperienza di blog il romanzo, il blog del resto è un blog letterario ormai, e appunto racconta soprattutto l'esperienza della maternità, come cambia la vita non solo della mamma ma anche della coppia, in pre a bebè. Esatto, è la storia di Enrico che è una ragazza che ha il tipico problema adolescenziale, non accetta il suo corpo, poi improvvisamente decide di vedere le cose in modo più positivo e in quel frangente arriva il suo grande amore che è Giacomo. Questi due sono coraggiosi, quindi decidono di mettere su famiglia e cominciano nel senso fisico da positano, nel senso pratico mettendo in gioco tutti i sentimenti che si possono mettere in gioco e quando arrivano Emma e Carola il gioco inizia davvero. E il corpo anche si trasforma di nuovo, quindi di nuovo è difficile accettare questa trasformazione. Esatto, perché non vuole essere un manuale, ci sono delle regole, la domanda è come fa una donna a restare donna anche quando diventa mamma dopo una gravidanza e un bambino che arriva e ti sconvolge la vita? Si parla anche di Giacomo che è il marito, il marito vero tra l'altro. Il marito vero. E se ne parla anche con ironia, con divertimento, è un libro che fa anche ridere, no? Si, molto e ha questo sottofondo cinematografico dove ogni capitolo ha il titolo di un film e quindi è fondamentalmente scritto da chi e crede che la vita sia un film dipende da come la racconti, quindi è un po' così. Prea Bebé, il romanzo di Enrico Alessi pubblicato da PM.